no no niente niente buttate? no no non ce l'accavo mica ma neanche le martellate ma neanche le martellate ma non ce l'accavo è troppo bassa ma come? ma non ce l'accavo va bene facciamo i campanini cioè non ho da muovere le braccia come faccio? facciamo i campanini si fai i campanini e basta non ho da muovere le braccia no io le tiro anche le voglio in palco facciamo dopo e fai le 12 lisce magari forse puoi provare? ma prova 12? prova ma non garantisco mica niente sto zavaggio di fotocamera che si spegne da sola non si spegne vedo dove sto inquadrando dai adesso è acceso? si si perché quando si ti avvicini troppo non ramma dai qualcosa di veloce dai i campanini i campanini i campanini i campanini i campanini e dove ci lisce chiamo dai attenzione hai l'evanto volta ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.